questa è la sfemminella dura vedi si parte dal basso questo qui è il primo che si toglie lo riconosci perché sta sull'ascella sulla scella vedi sta sulla scena la foglia l'ascella questa è una femminella questa è una grossa femminella vedi guarda quanta grossa ci vogliono le fordici per togliere questa questa si toglie con le mani capito